Grazie a tutti bellissimi però nella scuola di infanzia Gramsci esatto con il tema Pinocchio uno di voi Pinocchio e ciucchino le birichinate siamo pronti? ciucchini pronti? si Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.